Un fenomeno di teleplastia Omaggio ad Alain Kardec, a cura di VB La trasfigurazione è un fenomeno di teleplastia per il quale uno strumento durante una transa incorporazione si trasfigura nel viso e talora cambia le dimensioni del corpo assumendo apparenza e sembianze di un'altra persona Chi scrive molti anni fa presso il centro spirituale Frattocchie fu testimone di un fenomeno di teleplastia per cui uno strumento o una donna nel giro di qualche minuto assunse sembianze che si sovrapposero alle sue